Siamo al quarto set, la Fornanini conduce per 2 a 1, in questo momento l'arbitro sta salendo sul suo seggiolone, facciamo un primo piano all'arbitro e sta per dare il via, batte numero 3 Claudia, Claudia si è emozionata perché sa che ci sono dietro io a fare il filmino ma adesso sparisco, perfetto, 1 a 0, siamo già 1 pari alla battuta il numero 27, il grande del mitico Iuri sportola così ecc 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.